Sono partiti in settimane i lavori per la realizzazione del campo in erba artificiale di ultima generazione per l'impianto sportivo del Dimeco nel quartiere Santa Rita. La gara d'appalto era stata aggiudicata alla ditta CLP Costruzioni di Pomigliano d'Arco. L'intervento di 500.000 euro è stato finanziato con apposito mutuo richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti. Il campo di calcio del Dimeco era in sabbia. Era ospitato le attività delle società sportive locali sia a livello agonistico che amatoriale. Il progetto, redato dall'architetto Aldo Carosella dell'ufficio tecnico del comune di Lanciano, prevede così la realizzazione di un campo con il sistema del drenaggio dinamico e manto in erba sintetica. Saranno eseguiti in particolare lavori di scavo per la formazione della rete di scolo delle acque meteoriche che sarà posizionato sul perimetro del campo di gioco. Sarà creato un nuovo impianto di irrigazione automatico. Il manto sarà costituito da fibre monofilo di colore verde antiabrasivo resistente ai raggi ultravioletti e al gelo e previsto il superamento delle barriere architettoniche. Il campo da gioco così riqualificato sarà destinato ad ospitare le competizioni del campionato FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, fino alla Serie Eccellenza e del settore giovanile scolastico. L'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna. Sull'impiantistica sportiva stiamo investendo tantissimo. Soltanto due settimane fa abbiamo dato anche un nuovo progetto esecutivo per il rifacimento della copertura e l'efficientamento energetico e il lumino tecnico anche del palazzetto dello sport in Via Rosato. Un progetto da 700.000 euro che è già al vaglio del Ministero nel canale di finanziamento Bando Sport e Periferia.